Il santuario della Madonna della Pieve si trova a Cavriana, in provincia di Mantova. L'edificio si erge su un colle ed è una delle chiese romaniche più importanti del mantovano. La Pieve, interamente incontro, viene edificata nell'XI secolo. L'interno è a navata unica ed è coperto da una struttura a linea a capriate. Nel presbiterio è collocato l'alto rilievo della Madonna della Misericordia, del XIV secolo. Si tratta di uno dei pochissimi alto rilievi che raffigurano la Madonna in Italia. Gli affreschi che abbellivano la chiesa sono databili dal XII al XIV secolo. Negli anni 50 la chiesa ha subito un rilevante restauro conservativo per riparare i danni provocati dalla Seconda Guerra Mondiale. Negli anni 50 la chiesa è quello che succede per riparare i danni provocati dalla scoffe.